per dare qualcosa in più voglio dire al nostro numero 11 attenzione in aria gol 3 a 0 la terza rete ed è Tripodi che serve questo pallone ha annunziato Martino 3 a 0 del Borgo quando siamo al nono minuto decimo minuto quasi 3 a 0 del Borgo bellissima l'azione questo gol lo dedico a mio papà che purtroppo mi ha lasciato il giorno 28 luglio e lo dedico a lui che è il mio primo tifoso che ha festeggiato dall'alto attenzione in aria gol 3 a 0 la terza rete ed è Tripodi che serve questo pallone ha annunziato Martino 3 a 0 del Borgo quando siamo al nono minuto decimo minuto quasi 3 a 0 del Borgo bellissima l'azione attenzione in aria gol 3 a 0